Ciao a tutti gamers e bentornati sul canale di Giochi Next Gen Ragazzi dopo più o meno un mese sono finalmente tornato qui con voi con questo vlog di ottobre Ragazzi innanzitutto mi voglio scusare per l'assenza che ho avuto appunto sui video sul canale Video gameplay ma anche il vlog di agosto e settembre che non vi ho portato Purtroppo ho avuto diversi tipi di problemi che non mi hanno permesso di registrare video in questo periodo Quindi ragazzi mi dispiace veramente tantissimo ma purtroppo gli imprevisti sia a livello lavorativo sia a livello familiare Ma magari non lo so un apocalisse zombie Ma vabbè magari questo è un po' più difficile Comunque ragazzi gli imprevisti in genere possono capitare e quindi non ho avuto veramente modo di registrare video Ragazzi ora sono qui sono tornato questo è il vlog appunto che vi porto per dirvi che dalla settimana prossima barra due settimane Proprio probabilmente fra due settimane ritornerà tutto come sempre Chi se ne frega Ragazzi quest'anno i giochi principali su quale mi baserò e su quale baserò il canale sono tre E ve li vado ad elencare il primo è ovviamente PES 2017 eccolo qui ragazzi Il lunedì alle 14 vi porterò PES 2017 come facevo anche prima L'unico dubbio ragazzi è se portarvi diventa un mito oppure se fare il MyClub avendo anche più tempo per cercare di arrivare in divisione 1 Sono indeciso perché visto che quest'anno anche la modalità diventa un mito è veramente molto molto bella e quindi non so quale delle due modalità portarvi Il mercoledì alle 14 vi porterò la carriera di FIFA 17 Quindi ragazzi ovviamente appuntamento fisso visto che la carriera è la mia modalità preferita Preferisco la carriera anche a FIFA Ultimate Team ve lo dico sinceramente Inoltre quest'anno FIFA al gameplay mi piace moltissimo Hanno cambiato il motore grafico ci sono stati dei miglioramenti dal mio punto di vista netti Ero molto scettico prima di iniziare a giocarci a dalla mano e devo dire che invece quest'anno mi piace veramente tantissimo FIFA Sono indeciso se iniziare la carriera dalla serie B oppure se dalla serie A con una squadra interessante tipo il Chievo Verona Oppure il Bologna che stanno facendo un campionato ottimo Oppure ragazzi non so il Torino, il Sassuolo Devo vedere con che squadra iniziare magari fare un sorteggio in diretta con voi come faccio sempre Il sabato per il momento ragazzi vi porterò un video random Però quando il 21 ottobre uscirà Battlefield 1 Che quest'anno vince secondo me a mani basse su Call of Duty Vi porterò video di Battlefield 1 Quindi questi tre giochi saranno i tre giochi principali sul quale si basterà il mio canale per tutto il 2016 e anche il 2017 Ragazzi come giochi extra ogni tanto vi porterò magari Formula 1 2016 Visto che comunque ad alcuni di voi piace la Formula 1 Non vi porto giochi tipo Mafia 3 o giochi nel quale c'è una storia fissa Perché tanto ragazzi prendiamoci chiaro ci sono i canali con i big youtubers che portano questi giochi Quindi è inutile che li porti anche io perché tanto la storia è sempre la stessa Quindi io vi porto giochi nel quale comunque ho una personalizzazione Tipo la carriera è comunque una cosa personale Le partite che si fanno su Battlefield sono comunque personali Quindi ragazzi preferisco portarvi giochi che hanno comunque una diversificazione dagli altri canali Detto questo ragazzi il mio obiettivo futuro sarebbe quello di aggiungere un quarto video al canale Se Youtube magari me li manda in feed Visto che Youtube non manda in feed moltissimi video purtroppo Sarebbe quello di portarvi un quarto video nel quale vado a proporvi come vi disse già tempo fa Giochi per smartphone Giochi gratuiti molto molto carini Che magari vi vado a proporre e vi faccio anche vedere qualche minuto di gioco E' un mio desiderio fare questa rubrica Quindi cercherò nel 2017 di aggiungere un quarto video riguardante giochi per smartphone Ultima cosa prima di chiudere questo vlog ragazzi mi scuso ma quest'anno almeno per il momento Non riesco a farvi la guida di FIFA 17 La guida dei consigli alle carriere perché ragazzi se ne va veramente tantissimo tempo E io non sto avendo tempo Quindi per ora ragazzi non riesco a farvi la guida Mi scuso con tutti voi Spero prossimamente di farvi almeno una video guida sul canale Detto questo ragazzi come sempre vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Lasciate un like se volete lasciatemi un commento mi farebbe molto piacere Se non siete ancora passati dalle mie pagine social Facebook, Instagram, Twitter Le trovate qui sotto in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Qui dal Giorgio Nero 83 è tutto E ciao gamers Noi ci vediamo al prossimo video Noi ci vediamo al prossimo video